Per tutte le vittime dell'adempimento al dovere, per tutte le vittime di tutti quelli che hanno messo a disposizione la loro vita per la nostra società, per il nostro paese. Credo che siano tutti quanti da ricordare perché è l'unico modo per alleviare il dolore di chi è rimasto. E certamente la giornata di oggi, la cerimonia di oggi, non è un gesto formale ma un vero e proprio sentito ringraziamento. È un momento di grande solidarietà ai familiari delle vittime, il cui un fratello di sofferenza non potrà mai essere adeguantemente esercito. Io credo che soltanto la memoria, la memoria abbia la capacità di lenire il dolore e di renderlo meno l'anno incomprensibile. Grazie